Benvenuti! Iniziata a Cosenza la non edizione del Festival del Fumetto Ospiti illustri come Bruno Risas e Milo Manara sono stati presenti alla prima serata tenutasi al Teatro Rendano Sono presenti al Museo del Fumetto di Cosenza le opere del noto disegnatore italiano Milo Manara Si è svolto all'auditorio Mubarashi il concorso di cosplay Tornii di scacchi e disverati giochi da tavolo sono svolti invece al Palazzo della Provincia di Cosenza Nella sala quintieri sono presenti stand editoriali Molti sono gli espositori alcuni venuti anche da fuori Italia Sono presenti alla sala quintieri numerosi stand di noti editori Numerosi gli appassionati accorsi da tutta la provincia e dintorni Dall'Orignano! Vi è bella vista! Il noto cantautore Bruno Risas l'incitore del premio Luigi Tenco Ha intervistato il noto disegnatore italiano Milo Manara al Teatro Rendano Davanti a numerosi appassionati accorsi da tutta la provincia Vi è bella vista! Vi invitiamo ad accorrere numerosi Anche perché la fiera durerà ancora 10 giorni Un saluto dalla redazione del Telesio TV Alla prossima! 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 Alla prossima!